Il record era per la quantità espressa, quindi in kg, per il raffiedo più grande del mondo di Guagliari. Il record precedente da battere era di 360 kg. Questa sera, dopo tante ore di cottura e tanto lavoro per quello che riguarda il conteggio, la prologo piene di solito, ha raggiunto i 504 anni a rotto di Guagliari. E' un trafattato del Guinness World record! Grazie! Grazie!